Ma è un genio, raga, ma chi è? Non lo so, gabbia pizza Ma chi cazzo è sto Evans, poi? Eh, qua col collega Pincon sei in buone mani, eh Sì? Mmh Perché? Eh, perché è uno che si è fatto suo Eh, che cos'è tutto questo cazzo? Oh, 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 oh Ma... Ma che cazzo è, raga? Ma è Warzone Cioè, ma poi perché si è fermato questo? Guarda, non si può girare Ma raga, ma che cazzo è? Ma è assurda sta roba, cioè Sai il fatto suo?